oh ma lei si fa la... e le armi di Thomas non ci sono più BASTA! BASTA CA- WEEE! Thomas! Ammighetto mio! no 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 non hai capito niente, non hai capito proprio niente non incominciamo a fare ste mince già sto incazzato perché ero l'unico in Italia a avere ste armi l'unico, l'unico e tu cosa fai? le vai a sputtalare e ci fai il video? ma come stai messo? ma che fa se lo sputtalate queste armi? no 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 no, ero l'unico in Italia, l'unico tu cosa fai? le rubi in metà, le rubi in metà che già è tanto una te ne volevo dare, volevo fare uno scambio serio e mi truffi però per ste cazzate mi blocchi su whatsapp, mi polchira tutto ma perché ti metti a fare il bm così? vabbè io vuoi scambiare? vuoi scambiare allora? dai dai, andiamo a scambiare cornuta andiamo a scambiare dove vuoi scambiare? qua? a due, a tre, a quattro, a cinque, a sei, a set oppure a otto dai, andiamo a due che già sei un cazzato sto nervoso, andiamo a andare via inizia a darmi i permessi, inizia col darmi i permessi muoviti anche tieni i permessi? però calma, ti fratimo, calma ti fratimo no no no, adesso prima di tutto prima di iniziare a scambiare ti muovi, ti muovi e mi mandi la foto su whatsapp e mi fa vedere che non stai recando io non sto recando non sto recando nulla ma certo, ma ogni volta ogni volta fai il coglione mi vuoi truffare vuoi fare i video e poi ci fai pure le views oh non sto recando non sto recando come faccio a mandarti questa foto? ho il telefonino scarico cioè, fine di Thomas fine di Thomas sì, non mi fai tranquillo non sto recando appunto adesso basta cosa c'è da scambiarmi, cucciola? io scambio una delle armi più belle che c'ho lancia Halloween elemento acqua a che livello? 144 va bene, va bene mi interessa quel lanciallo mi interessa cioè, tu di solito tu di solito sei sempre ricco ma come fai? ma come fai? ma come fai? io uso i miei trucchetti va bene, va bene che però non si possono rilevare io invece da offrirti c'ho svariate armi, fratimo io c'ho io c'ho delle armi rarissime bulldog doppio elemento 194 full perk con 10 elementi poi c'ho questa spada al 175 e poi c'ho questo lanciarle al 374 ma te lo smetti? ma te lo smetti di prendermi per il culo? basta basta prendermi per il culo è l'arma 190 è l'arma 140 è l'arma 129 è al 2000 è al 2004 oh 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 credimi cazzo credimi cazzo porca puttani cazzo troppo dai troppo ecco eccola qua oh 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 basta oh oh ti tolghi i permessi ti tolghi i permessi no 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 comunque comunque sta base non mi piace cambiamo base va bene cambiamo base cambiamo base dai vieni con me dai vieni con me a te mi piacciono le cose grosse e lunghe le grosse e lunghe esatto anche 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 belle belle profonde adesso dobbiamo fare le persone serie thomas io ho scoperto un bug sono sono il primo in italia sono il primo in italia al mondo al mondo non ti sto scherzando non ti sto scherzando cioè praticamente ho scoperto te lo giuro ho scoperto questo bug che praticamente ti rende le armi scariche full vita attraverso un bug assurdo appena appena l'ho fatto ho detto oddio c'è praticamente se tu scarichi le armi e fai questo bug ti diventano full cioè quindi le armi ce ne hai per sempre non ti sto scherzando non ti sto scherzando io comunque se è vero io c'ho un sacco di armi scariche eh lo facciamo allora lo facciamo sto bug va bene prima scambiamo va bene scambiamo cosa cosa c'è da offrirmi cosa c'è da offrirmi oh serio va bene serio 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 come una roccia serio come una roccia mister hd il sito che fa per te su questo sito puoi trovare vari prodotti ragazzi a partire da salve al mondo da fortite batteria reale da gta 5 da fifa ragazzi a rocket league anche heyday e anche roblox ragazzi io vi lascio il link in descrizione allora io ho dovuto scambiarti questo matte candy corn 130 elemento fuoco e fisico va bene va bene uh uh ci sta a posto io in cambio di di quell'arma ti posso dare mitraietta leggendaria al mercurio a rame all'ottanta e rame all'ottanta che non si può avere eh non si può avere vado eh va bene è un troppo guarda è qua guarda vai droppa vieni qua vai avanti a posto hai visto vediamo vediamo se doppi l'elemento a posto a posto a posto hai visto hai visto che quando scambio seriamente fa variglia una persona seria che daviducci una persona seria una persona seria ora 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 facciamo il glitch tu quanti armi hai per caso Thomas io ce n'ho io ce n'ho 50 più o meno sì io ho 50 a posto a posto vieni con me però ti do solo con le scariche che c'è no no tutte tutte ascolta allora lo vuoi un consiglio droppale tutte quelle fulle e quelle non full ascolta a me ascolta a me dai vieni con me allora noi praticamente dobbiamo droppare le armi da una parte e poi dobbiamo andare da un'altra parte capito quindi vieni qua cioè le droppa anch'io capito le droppa anch'io capito quindi tu droppi il tuo inventario qui e io qui ho troppo capito io lì ma non ti truffo ma secondo te Thomas ma secondo te ma stai scherzando tranquillo Thomas tranquillo tranquillo guarda Thomas pure io cioè pure io le sto droppando pure io le sto droppando guarda guarda hai visto tutto droppato hai visto ma quanti armi sono 50 50 sì sì va bene va bene a posto adesso aspetta dobbiamo andare tipo in fondo alla mappa in fondo qua adesso dobbiamo fare due cupole una qua e una qua allora io allora io entro qua dentro e tu qua e tu qua entra entra ok bravo entra adesso al mio 3 sì sì al mio 3 spamma il tasto per saltare spamma 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 1 2 3 vai 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 per 5 secondi vai per 5 secondi 1 vai perché mi hai tanti permessi no no non te l'ho tolti perché no come no hai tanti permessi permessi ma quali permessi se c'è ancora ma quali permessi ma quali permessi scusa ma quali permessi per me ma che caso sei dicendo ma che c'è ma ce l'hai ce l'hai per me si ce l'hai Thomas ma come no Thomas non mi perculare Thomas non mi perculare non mi perculare non mi perculare Thomas non mi perculare Thomas Thomas non mi perculare non mi perculare che devi fare così perché ma dai sei una testa di cazzo allora Thomas 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 devo dirti la verità vabbè ti dico la verità purtroppo Thomas Thomas purtroppo tu c'è un bimberto che c'è che vieni truffato easy e anche oggi e anche oggi fama regna il king d'italia ti ha distrutto quindi pecorella e pony pecorella e pony e BOOM che è che è successo che è che è successo BOOM rimani là dentro rimani là dentro giù sei il coppio giù sei il coppio giù sei il coppio ah stai zitto ok ok adesso mi vado a fullare me la fullare adesso dai oh abisca di rapide oh che bello oh che bello mamma mia Thomas 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 che succede tu dovevi Thomas stavo siamo non mi cioè non mi provo a truffare una trappola di meta vergogno 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 canti insieme a me oh ma lei si fa la e le anni di Thomas stai zitto ma vaffanculo Thomas le armi non ci sono più 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 basta 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 cazzo basta stai zitto chico stai zitto